ben ritrovati a questo nuovo video con il quale voglio presentare come si usa questo questo programma questo software chiamato gnome enc fs manager per gestire delle cartelle crittografate o cifrate fate voi come volete chiamarle ecco a cosa può servire un sistema di questo tipo per esempio per crittografare i nostri documenti più privati più delicati insomma quello che volete voi prima di salvarle su ubuntu hanno altro servizio di cloud tra le nuvole insomma quindi sistemi come questo insomma questo analogo tipo true cripte ecco per intenderci un sistema analogo a questo è proprio true cripte ci permettono di crittografare ovvero di rendere illeggibili e inaccessibili i nostri dati prima per esempio di caricarli su un sistema cloud ovvero in rete chissà dove ma appunto salvati in modo per così dire sicuro da un lato ma chi lo sa dove vanno finire i nostri dati in quante copie in quanti paesi su quanti server quindi se necessitiamo proprio di salvare dei documenti particolari dei quali ci teniamo particolarmente che il contenuto resti esclusivamente nostro può essere utile usare un sistema di questo tipo appunto per crittografare prima di salvare in rete i nostri dati ecco questo sistema ve lo propongo ve lo presento perché ha diciamo così la caratteristica di essere molto semplici da usare una volta impostato e progettato in modo che praticamente non richieda nessuna manutenzione in buona sostanza una volta che avete attivato le vostre cartelle con le vostre esigenze una tantum praticamente non vi accorgete quasi che questo sistema esiste ma lui lavora dietro le quinte vi permette di usare le vostre cartelle come qualsiasi altra cartella non cifrata non crittografata ma in realtà lui dietro le quinte lavora e vi securizza diciamo così i vostri dati crittografando i vostri dati ma voi non ve ne accorgete presente un sistema proprio progettato in modo che sia invasivo il meno possibile una volta avviato impostato voi lavorate tranquillamente non vi preoccupate più del fatto che anche fs manager stia lavorando dietro le quinte ecco questo importante perché magari altri sistemi sono analoghi come funzionalità ma li presentano in modo diverso un po più invasivo un po più complicato eccetera eccetera questo veramente ho trovato molto pratico ed è per quello che ve lo presento allora come si installa prima di tutto si installa da un archivio ppa perché non è ancora presente questo manager questa interfaccia grafica per gestire le cartelle crittografate non è ancora presente per il momento nei repository ufficiale quindi bisogna usare questo questo archivio ppa vedete che c'è per tutte le versioni tuttora attive vive diciamo così di di ubuntu addirittura già anche per quella che uscirà solo a ottobre e si aggiunge appunto questo ppa come immagino ormai abbiate preso l'abitudine a vedere come si fa quindi con un paio di comandi da terminale il modo più spiccio quindi vi presento sempre questo modo qui vi presento i comandi che dovete semplicemente copiare incollare non terminale ed eseguirli come ormai credo abbiate imparato a fare e qui vi metto anche la descrizione di cosa fa il singolo comando quindi il primo serve appunto ad aggiungere questo archivio ppa questo qua vedete qua questo comando fa questo lavoro nel vostro sistema vi aggiunge questo repository ppa il secondo comando aggiorna le informazioni dei repository conosciuti al vostro sistema in modo che anche questa ultima aggiunta venga riconosciuta dal vostro sistema e in ultimo naturalmente un comando per installare gnome encfs manager vedete il nome del pacchetto è questo quindi copiate incollate questo comando così vi ritrovate con il software con il programma installato ora tutto qui ormai questa è cosa nota perché già in altri video abbiamo seguito questa strada e passiamo alla parte pratica diciamo come funziona ora che l'abbiamo installato come funziona questo sistema allora il suo funzionamento è molto simile per non dire uguale a quello che già è integrato in ubuntu e che vi permette di crittografare la vostra home sapete che quando installate ubuntu avete un'opzione in uno dei passi del dell'assistente di installazione che vi permette di crittografare la o molto comodamente attivate quell'opzione e la home viene crittografato automaticamente nelle ultime versioni di ubuntu più recenti di quella che sto usando io insomma sto usando la 1204 ma successivamente è arrivata anche la crittografia dell'intero disco non solo della vostra home e quindi un meccanismo più o meno sono questi però questa è solo una notazione a margine per quanto ci riguarda il tema di questo video e in che fs dunque funziona praticamente così cosa succede viene creata una cartella con il contenuto originale dei vostri dati crittografato quindi illeggibile e questa cartella solitamente anzi fortemente consigliato crearla nascosta ovvero con un puntino davanti al nome fra un attimo apriamo il programma e vediamo proprio come si fa però qui descrivo leggo velocemente la descrizione di cosa succede quindi viene creata bisogna creare una cartella vera diciamo così con il contenuto crittografato originale dei nostri dati nascosta perché perché come dice il nome nascosta quindi la cartella è lì fa il suo lavoro il programma fa il suo lavoro su questa cartella e non e non ci disturba non l'abbiamo sotto gli occhi tutto il giorno e noi a nostra volta inadvertitamente non possiamo danneggiarla perché essendo nascosta con le operazioni che possiamo fare nel file manager non viene incluse essendo nascosta quindi bisogna proprio attivare la visualizzazione dei file nascosti dei file cartelle nascosti per poterla vedere se non attiviamo quell'opzione non la vediamo non ci disturba sappiamo che lì e basta e fa il suo lavoro e quindi sarà poi rilacciandomi al primo punto della nostra scaletta sarà poi questa la cartella che va salvata su Ubuntu One o altro servizio di cloud come Dropbox o altri ecco sarà poi ovviamente questa cartella crittografata da salvare naturalmente non quella con i documenti in chiaro ma ovviamente sarà quella perché quella contiene veramente i nostri documenti e sarà quella da salvare quindi verrà salvata in una forma illeggibile anche nelle varie interfacce web di Ubuntu One, Dropbox eccetera sarà ovviamente inaccessibile come contenuto o meglio accessibile ma non leggibile non usufruibile perché è in forma crittografata ed è proprio quello lo scopo, quindi salviamo in un modo che anche se dovessero rubarci i dati non ne potrebbero farne nulla perché non hanno la chiave per vederli in chiaro ecco quindi la prima parte del compito di questo programma è quello di creare e gestirci questa cartella dove lui applica la crittografia, la chiave di crittografia a questa cartella la seconda parte è quella sempre gestita da questo programma è quella di crearci un punto di montaggio ovvero mount point detto in inglese che ci mostrerà lo stesso contenuto ma non crittografato ovvero in chiaro il contenuto di quella cartella ma in chiaro ecco adesso a questo punto vale la pena aprire una finestra del nostro file manager mi sono posizionato in una cartella qualsiasi e apriamo il GNOME ENC FS manager che appare qui nel nostro pannello in alto qui a destra con questa icona di cartella con una chiavetta la vedete qui, eccolo qua e facendo clic su questo indicatore del manager c'è l'opzione per visualizzare l'interfaccia eccola qua, l'interfaccia del programma è questa bene, mettiamo qui la nostra cartella mettiamo qui il nostro GNOME ENC FS manager e vediamo che io per esempio sul mio sistema ho già una cartella crittografata con i miei documenti che ho chiamato personale, lo vedete qua ma adesso ne creiamo una da zero proprio per mostrare quanto ho descritto in questi due punti quindi la cartella con il contenuto crittografato e il punto di montaggio che ci mostra il contenuto non crittografato ed è qui che noi lavoriamo normalmente nella cartella, diciamo così, nel punto di montaggio non crittografato perché quella crittografata, come abbiamo detto, resta nascosta lì per conto suo e ci pensa poi appunto l'ENC FS manager a crittografare ogni dato che noi aggiungiamo in questo punto di montaggio in chiaro rispettivamente a decrittografare o a togliere la crittografia per farci vedere il contenuto della cartella nascosta crittografata in questo punto di montaggio ecco, se forse non a tutti è chiaro di cosa sto parlando con punto di montaggio quando voi innestate nel vostro pc una penna USB o un disco esterno USB vi appare qui nel file manager sulla sinistra un simbolo con il nome dell'unità disco che avete connesso al vostro pc e con questo simbolo per espellere cioè per sconnettere il disco o la penna USB ecco, nel file system, ovvero nel sistema dei file Linux tutto è contenuto in un albero come ho già avuto modo di spiegare in un altro video e in un certo punto di questo albero viene innestato il disco esterno, la chiavetta USB che noi connettiamo al nostro pc ecco, quello si chiama punto di montaggio ci pensa il sistema a metterlo nel punto giusto insomma, non dobbiamo pensarci noi poi il fatto sta che quella tal penna USB o quel tal disco esterno USB che noi abbiamo connesso al pc viene appunto montato in un certa posizione dell'albero di tutte le cartelle del sistema file di Linux ecco, la stessa cosa viene, per così dire, simulata con queste cartelle da EnkFS quindi c'è la cartella, diciamo così, vera che è quella criptografata e nascosta è un punto di montaggio che simula che fa finta, diciamo così che questa cartella sia un disco esterno quindi la presenta come fosse un disco esterno ecco, vedete che io ho la mia cartella criptografata che si chiama punto personale che è nascosta e ho il punto di montaggio vedete Mount Directory che ha lo stesso nome ma senza puntino e viene presentata qui sulla sinistra lo vedete qui sulla sinistra mi viene presentato come fosse un disco esterno connesso in un certo punto montato in un certo punto del file system vedete, personale con il simbolino per espeller poi vediamo più in là cosa significa questo ecco, allora procediamo con la pratica cosa succede? io voglio crearmi una cartella criptografata rispettivamente un punto di montaggio non criptografato vengo qui sul simbolo più è molto, diciamo così, intuitivo il simbolo meno è per cancellare un punto di montaggio una cartella criptografata la matitina è per modificare le opzioni le chiavi sono per cambiare la password di criptografia e il più è per aggiungere una nuova cartella quindi schiacciamo più e vediamo che per difetto il programma ci presenta ci offre una possibilità nella vostra home vi dice vi creo una cartella encfs barra punto private o private rispettivamente il punto di montaggio vedete specularmente parallelamente sempre nella vostra home home nicola nel mio caso encfs private non nascosta quello che dicevo il meccanismo della cartella nascosta criptografata rispettivamente del punto di montaggio non criptografato e non nascosto ecco questo è quello che vi offre lui per difetto senza toccare nulla potete anche creare la cartella così ma noi vogliamo crearla giusto per fare esercizio qua dentro nella home sotto pubblici vogliamo crearci la cartella allora possiamo fare un lavoro preventivo ovvero crearci le due cartelle nascoste non direttamente nel file manager qua oppure lasciarlo fare a encfs manager direttamente da qua specificandogli noi personalizzando quali cartelle deve creare ci pensa lui a crearla quindi noi ci posizioniamo sotto pubblici eccoci qua meno la cartella ok sotto pubblici e poi possiamo scrivere manualmente questa è una scelta possiamo farlo qui io ripeto nel file manager questa è la cartella dove ci sarà il contenuto criptografato quindi la rendiamo nascosta quindi il nome inizia con puntino e facciamo demo tutorial ecco qua rispettivamente facciamo un bel copia e incolla nel punto di montaggio dove vogliamo il punto di montaggio e togliamo il puntino così abbiamo demo tutorial e demo tutorial non nascosto poi gli diamo una password che serve al sistema per creare le chiavi di criptografia questa password è poi quella che ci serve per accedere alla nostra cartella ai dati in chiaro attraverso il punto di montaggio anche qui mettiamo una semplice password demo giusto per non complicarci facciamo create ecco qua un attimino che sta lavorando ecco vedete ha aggiunto che cosa ha aggiunto il punto di montaggio che è quello che abbiamo indicato noi e la stage directory che è poi la cartella criptografata protetta sicura con lo stesso percorso parte la cartella nascosta adesso qui nel nostro file manager attiviamo la possibilità di vedere i file nascosti e vedete che appare la cartella demo tutorial che sembra una cartella in realtà il punto di montaggio basato sull'altra cartella che è questa nascosta la vedete ecco questa cartella nascosta al momento è vuota c'è solo il file di configurazione di ENCFS che non bisogna toccarlo lasciamolo lì rispettivamente il punto di montaggio ovviamente è vuoto perché l'abbiamo appena creata è vuota e vedete che qui quello che vi dicevo il punto di montaggio appare qui sulla barra di sinistra col simbolino per espellere la cartella di cui parleremo dopo quindi è uguale il percorso che fate è uguale o accedete navigando fra le cartelle o direttamente fate click sul punto di montaggio qui e vi ritrovate nella cartella a questo punto praticamente il lavoro per creare una cartella crittografata è già finito lì quella che salverete su Ubuntu One o su Dropbox dove volete voi sarà questa nascosta che appunto ripeto nel lavoro quotidiano quando usate il vostro pc in realtà sarà nascosta non la vedrete voi utilizzerete tutto attraverso questo punto di montaggio con i dati in chiaro e ripeto appunto è la cartella da salvare questa nascosta e non questo che è un semplice punto di montaggio e quindi tutto lì è già finito praticamente l'impostazione del sistema ENCFS è già concluso come utilizzarlo come una semplice qualsiasi cartella per esempio questo file immagine lo voglio salvare in quella cartella non lo salvo nella cartella nascosta ovviamente perché facciamo finta che per noi non esista da usare nell'attività normale ma la salviamo nel nostro punto di montaggio quindi la salvo qua dentro entro qua e vedete che c'è la mia immagine in chiaro né più né meno come al di fuori di questa cartella dentro la cartella nascosta ENCFS ha lavorato e ha criptografato il file lo vedete che è apparso questo qui è il corrispondente criptografato di quell'immagine che ho copiato nella cartella vedete che non si riconosce nemmeno il nome perché il sistema è così raffinato che criptografa sia il nome sia il contenuto quindi è proprio illegibile e inutilizzabile questo contenuto anche se ce lo rubano dal nostro sistema cloud ubuntu one robux quello che volete anche se ce lo rubano non se ne fanno nulla perché è irriconoscibile non si capisce né che tipo di file sia né che il contenuto abbia ecco questo è il meccanismo e questa cartella attraverso il punto di montaggio qui può essere usata né più né meno che con qualsiasi altra cartella non criptografata esattamente uguale non ci accorgiamo di nulla forse l'unico indizio è che qui sembra un disco qua sulla sinistra e anche qui c'è il simbolino del disco appoggiato sulla cartella ecco forse l'unico indizio che si tratta di una cartella tra virgolette speciale per il resto è esattamente né più né meno che questa o questa o un'altra cartella ok abbiamo visto praticamente il video potrebbe anche finire qui però voglio parlare anche di qualche caratteristica in più che rende ancora più pratico questo sistema dunque EnkFS Manager ha dei suoi delle sue preferenze naturalmente vediamole rapidamente delle opzioni generiche che valgono per tutto il programma il sistema uno è quello di farlo partire alla login ovvero alla partenza del pc ovviamente se noi abbiamo delle cartelle crittografate che usiamo tutto il giorno con dentro dei dati sui quali lavoriamo tutti i giorni non vogliamo che il sistema voler far partire il sistema EnkFS Manager manualmente tutte le volte che parte il pc ma grazie a questa opzione partirà da solo e apparirà da solo qua sul pannello in alto il suo indicatore molto pratico per l'utilizzo del sistema poi vogliamo però anche che alla logout ovvero allo spegnimento del pc si smontino ovvero spariscano vengano come dire sconnesse queste cartelle all'uscita dal pc quindi nel mio caso in questo momento la cartella personale la cartella demo tutorial verrebbero smontate spente e quindi diventerebbero inaccessibili sarebbero presenti solo le cartelle nascoste criptografate e quindi inaccessibili come contenuto per tutti importante poi ecco l'altra cosa comoda è avere l'indicatore qui in alto a destra quindi 3 icon quindi si attiva la possibilità di vedere questo indicatore alla partenza del pc non si apre la finestra di gestione ma resta nascosta quindi apparirà solo l'indicatore eccetera eccetera ecco advanced e lasciamo perdere queste sono le opzioni importanti e comode che all'accensione del pc vi fanno parire l'indicatore qui se avete bisogno di gestire le vostre cartelle criptografate aprite l'interfaccia come abbiamo fatto prima se non ne avete bisogno non ve ne preoccupate più ecco questo era un dettaglio di cui voglio parlare poi per quanto riguarda le opzioni specifiche per singola cartella possiamo vederle usando la matitina qui che vuol dire di configurare che ci permette di configurare la singola cartella ecco e si apre un dialogo nel quale possiamo impostare alcune opzioni specifiche per singola cartella criptografata tipo montarla alla partenza del pc ovvero non vogliamo preoccuparci di montare la nostra cartella demo tutorial manualmente ogni volta che il pc si accende ma vogliamo che si monti da sola perfetto poi queste opzioni vediamo fra un attimo ecco il fatto però che si monti da sola implica per la massima comodità possibile che non dobbiamo poi digitare la password che gli abbiamo segnato ogni volta ma possiamo salvare la password nel keyring ovvero nel portachiavi di nome possiamo salvare questa password nel portachiavi di nome il che significa che encfsmanager si arrangia da solo andare a prendere la password da lì non ci chiederà più niente quando parte il pc e voi aprite il vostro file manager qua vi ritroverete automaticamente con la o le vostre cartelle criptografate già montate e pronte all'uso senza dover fare assolutamente nulla grazie a queste due opzioni senza far nulla ecco perché all'inizio del video vi ho detto che è un sistema impostato molto comodo impostato e progettato in modo da richiedere presente nessuna manutenzione da parte vostra se attivate per la vostra cartella criptografate almeno questa opzione e almeno questa potete anzi non avrete più nulla da fare una volta impostato una tanto nel sistema non dovete più far nulla lavorerete con le vostre cartelle ed è finita lì ecco una nota qui a margine è quella del montare smontare queste cartelle ecco magari prima di arrivare a quello solo una cosa prima di scordarmela vedete che c'è un'opzione qui attivata per difetto che è quella di mostrare la cartella nell'indicatore qui vedete che è visualizzata la nostra cartella demo tutorial questo vi permette di montare smontare rapidamente le cartelle elencate qui se non volete che appaia lì nell'indicatore perché non vi interessa spegnete questa opzione e vedete che è sparito demo tutorial dall'elenco se invece vi fa comodo vederla lì nell'elenco riattivate l'opzione e vedete che appare la cartella lì nell'elenco dell'indicatore diciamo che come minimo queste due opzioni vi garantiscono la massima comodità di utilizzo del sistema chiudete e avete impostato la vostra cartella ecco la nota qua parla dell'aspetto importante anche quello di smontare o montare queste cartelle quando voi connettete una pen usb o un disco esterno facendo clic su questo simbolo vi si smonta quell'unità disco pen usb e potete sconnetterla senza pericolo se provate la stessa cosa con queste cartelle vedete che esce un errore e questa volta pur essendo un errore non è un male perché significa che anche se voi cliccate qui inavvertitamente non potete smontare queste cartelle restano sempre attive e disponibili queste cartelle l'unico modo per montarle smontarle è attraverso l'interfaccia nom e anche fast manager vedete qui l'ultima colonna sulla destra che c'è i vistini vuol dire che la cartella è montata in questo momento e l'unico modo per smontarla è fare clic qua quindi aspettate che esco dalla cartella stessa faccio clic e adesso è smontata vedete non c'è più il vistino e qui è sparita non sparite le due cartelle perché? perché non sono più cioè scusate è rimasta la cartella vera fisicamente vera con il suo contenuto crittografato quindi inutilizzabile da tutti anche da noi stessi proprietari dei dati e non c'è più il punto di montaggio che ci mostra il contenuto in chiaro vogliamo riottenere la nostra cartella dobbiamo montarla di nuovo e ci chiede ovviamente la password perché non l'abbiamo ancora salvata nel portachiavi di Gnome naturalmente quindi ce la chiede la password come farebbe sempre se non ci fosse quell'opzione di salvarla nel portachiavi di Gnome ecco l'abbiamo rimontata qui è riapparsa con il nostro contenuto decifrato decrittografato vedete è riapparsa qui c'è ancora il simbolo del disco ecco qua un refresh e appare anche il simbolo del disco sulla cartella ecco vedete che è molto comodo come sistema adesso ovviamente in questo video vi sto mostrando tutte le opzioni come ci si lavora e tutto ma una volta che è impostato chiudete la vostra interfaccia qui c'è solo l'indicatore che vi mostra che attivo il sistema e basta non vi preoccupate più di nulla ecco un'altra caratteristica devo riaprire scusate l'interfaccia per mostrarla quindi rientro nelle opzioni della singola cartella ecco un'altra caratteristica molto interessante è che queste cartelle criptografate non si possono creare solo sul disco principale del vostro pc ma anche su dischi esterni o penne usb esterne la cosa interessante è che se si attiva questa opzione mount when getting available ovvero montalo solo quando ti accorgi che quella tal cartella è disponibile ecco attivando questa opzione anche se voi avete criptografato una cartella su un disco esterno su una penna usb grazie a questa opzione il sistema anche FS manager diciamo che non reclama non vi darà un errore che non riesce a montare una cosa che non trova perché perché attenderà che voi riconnettiate quel tal disco esterno o quella tal pennetta usb esterna e al momento che voi la riconnettete il sistema la riconosce e solo a quel momento monterà la cartella la cartella nascosta criptografata su quell'unità esterna quindi grazie a questa opzione sarà trasparente anche quel fatto quindi voi potete criptografare anche un disco esterno che vi portate con voi in ufficio in giro in viaggio e solo al momento che lo connettete sul vostro pc verrà montato solo in quel momento senza dare errori inutili di unità non trovate eccetera eccetera questo è molto molto interessante quindi ecco se questa cartella demo tutorial in realtà si trovasse su un disco esterno attivando quest'opzione sarebbe tutto trasparente anche in quel caso bene detto anche questo e l'ultima cosa che probabilmente vi siete chiesti a questo punto ma tutto funziona perfettamente finché il mio sistema non deve essere reinstallato o non mi si rompe il pc non devo installarlo sul nuovo pc o semplicemente installo una nuova versione di sistema operativo non faccio semplicemente un upgrade ma lo reinstallo da zero cosa succede quando non ho più queste informazioni perché encfsmanager è presente adesso sul mio pc ma dovessi rifarlo ripartirei da zero come faccio ecco l'importante ovviamente perché la cartella vera vi ricordo è questa nascosta l'importante è aver salvato o sul vostro disco esterno o nelle nuvole su Ubuntu One dove volete voi è aver salvato i dati veri ovvero questi criptografati ma quelli veri effettivi se avete salvato questo potete recuperare questa cartella e renderla nuovamente leggibile ovviamente conoscendone anche la password quindi i fattori sono due per ricominciare su una macchina nuova con questo sistema uno avere salvato i dati ovvio perché questo senza dati non si recupera nulla due ricordarsi o avere disponibile da qualche parte la password per aprire la criptografia di questa cartella ecco come facciamo a dimostrare questo facciamo finta che abbiamo reinstallato il pc e vogliamo recuperare questa cartella demo tutorial che non abbiamo più quindi noi io adesso la cancello o meglio cancello dal encfs manager il puntamento a questa cartella quindi io non cancello tutto cioè naturalmente qui ho anche l'opzione per cancellare anche la cartella nascosta proprio tutto quindi perderei anche i dati nel mio caso per simulare diciamo una nuova installazione nel sistema operativo e recuperare queste cartelle diciamo che tolgo solo la gestione di questa cartella nel nel gestore ecco adesso quindi io ho in questo momento facciamo finta che sto reinstallando il mio sistema l'ho reinstallato dal mio salvataggio dal mio backup su un disco dove voglio appunto da Ubuntu One ho recuperato questa cartella nascosta adesso però è leggibile e devo ricrearmi il punto di montaggio in sostanza con la mia password per renderla di nuovo leggibile ecco quando teniamo il mouse qui sul tasto più quello per creare le nuove cartelle crittografate vedete che c'è anche un'altra opzione create or import vuol dire quindi che posso sia creare sia ripristinare una cartella in precedenza crittografata quindi è proprio il nostro caso allora io voglio ricrearmi quindi importare la mia cartella quindi vengo dove è dove è ecco mi riposiziono dico è questa qui la mia cartella crittografata e vedete che lui se ne accorge che è una delle sue cartelle cioè il sistema dice ah ma questa qui è una cartella mia che ho crittografato io un po' di tempo fa e mi dice già così mi dice mi offre la possibilità di import vedete non più di creare ma di import e mi dice dove devo montartela allora diciamo che adesso primo scordato di smontare la cartella prima di farla sparire diciamo che ci provo se funziona anche se il punto di montaggio è già attivo ci provo vediamo un po' se no cambio cartella giusto per dimostrazione ecco ricreata e rimontata e vedete che funziona ecco quindi non c'è pericolo di perdere qualcosa è vero che le cose crittografate ogni tanto intimoriscono un po' perché dicono se perdo la puzzle se perdo qualcosa se il pc mi si rompe come faccio puoi rivedere i miei dati in chiaro vedete con questo sistema è molto semplice l'importante è salvare i dati ma questo vale in generale non solo per questo sistema salvare i propri dati è la cosa essenziale perché sono gli unici che sono irrecuperabili se sono persi tutto il resto il sistema ubuntu e tutto si può sempre reinstallare ma i vostri dati sono unici e quindi devono essere salvati quindi l'importante è salvare la cartella nascosta che poi con questo sistema si può sempre riattivarla come l'originale ecco con questo è tutto diciamo togliamo l'opzione di vedere le cartelle nascoste perché si lavora con questa normale ecco voilà quindi con questo è tutto concludo questo video sperando di essere stato sufficientemente chiaro con questi meccanismi di criptografia che sono sempre un po' particolari da descrivere spero come sempre che a qualcuno possa essere utile anche questo video e con questo vi saluto ciao ciao e alla prossima ciao Grazie.